Un flash mob per dimostrare come effettuare un massaggio cardiaco in caso di urgenza, gazebo per screening, ecodoppler, elettrocardiogramma per prevenire il rischio di patologie cardiovascolari. Parte dal centro di Foggia, il tour della salute organizzato dall'associazione Il Cuore, in collaborazione con ERA. È stata allestita un'area ludica, con i condottori per i più piccoli, un'area informativa con i consigli e le informazioni degli esperti, perfino psicologi e nutrizionisti. È un'area operativa per la misurazione dei parametri e le consulenze. Oltre 100 persone hanno detto sì alla prevenzione e si sono messi in fila per un check-up rapido. Stamattina c'è stata un'affluenza incredibile, eravamo preparati, però ancora di più delle nostre aspettative. C'è stata tanta gente, abbiamo fatto un triage, abbiamo cercato di distribuire un po' l'elettrocardiogramma da un lato, il controllo dei parametri, la dottoressa Battista oggi è veramente impegnatissima perché c'è una fila per i Doppler. L'elettrocardiogramma è l'esame più richiesto perché il rischio cardiovascolare in realtà è quello che, da dati statistici, è rilevante. Una buona partecipazione soprattutto in un momento in cui la prevenzione sembra non avere più la centralità che merita. È un tema su cui i medici e gli operatori sanitari si devono abbattere perché sentire quello che è avvenuto politicamente per ignoranza delle persone, parlo dei no-vax, vaccini sì, vaccini no, a me fa rabbia terribilmente. Se non ci fosse stata una penicillina, quante persone, migliaia di persone sarebbero morte?